buongiorno questo è il nostro caminetto abbiamo applicato sopra il comignolo un aspiratore gemi e siamo assolutamente soddisfatti non abbiamo sono vent'anni che siamo in questa casa e non abbiamo mai potuto godere del termocamino perché il nostro è un termocamino aperto abbiamo sempre dovuto tenerlo chiuso e nonostante tutto quando c'era il vento fuori il camino faceva fumo anche se lo sportello era chiuso invece in questo momento guardate come tira bene come sale bene la fiamma è una cosa meravigliosa oggi è una giornata di vento per cui a godere di questo fuoco è veramente un piacere anche il nostro gatto gode del calore del fuoco allora il pannello dei comandi l'abbiamo installato qui a fianco come potete vedere non so se si vede è alla velocità 1 e già così è veramente meraviglioso il modo in cui tira il fumo non assolutamente non si sente nulla nessun nessun odore nessun cattivo odore ieri sera abbiamo anche arrostito è stato un piacere perché non in casa non si sentiva nulla e invece i vicini per la verità hanno sentito l'odore delle nostre salsicce delle nostre bistecche adesso vi faccio vedere fuori dove ecco qua andiamo fuori oggi è una giornata bellissima però di vento vi faccio vedere ecco qua l'aspiratore messo sopra il piscamino che funziona in modo meraviglioso siamo assolutamente soddisfatti e vi dirò di più abbiamo un altro cammino al piano di sotto un cammino molto grande e assolutamente faremo un altro un'altra spesa ne compreremo un altro di di comignolo di aspirafumo perché siamo assolutamente soddisfatti grazie